Buona giornata della Nor, questo video è per mostrarvi una stesura antecedente a un contatto medianico con la figlia di un noto cantante italiano che è scomparsa da tantissimi anni e della quale appunto ho cercato i contatti per avere la verità su ciò che era successo. Allora, questa è la stesura Lenormand per le persone scomparse, molto interessante è appunto questa combinazione appunto uscita in seconda casa quindi morta e insomma fatta morire vicino a casa, la casa appunto dove si trovava in quel momento. Logicamente dove abitava con la famiglia. Allora, questa stesura mostra che ciò che è stato fatto di male è stato fatto nella abitazione, insomma dove risiedeva al momento, di notte. E' stato un attacco da parte di quest'uomo che l'ha uccisa. Altra informazione ve le darò da scrittura automatica. Però questa ragazza molto giovane e molto carina è stata appunto fatta fuori da questo uomo con cui viveva in quel periodo della sua vita. E questo uomo non ha mai pagato perché la giustizia del posto appunto dove si trovava non ha mai valutato la reale situazione ma ha sempre ipotizzato cose che non erano vere. Quindi lei mi ha detto poi tutta la verità. Io vi auguro buona giornata e a presto. Grazie. 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 Grazie.